Allora, dicevo che il Chelsea è una squadra a livello europeo, è il campione d'Europa, quindi non è che la partita di stasera dovrà dimostrare che squadra era. Noi abbiamo fatto una grande partita all'andata, vincendo, battendoli. Stasera abbiamo fatto un buon primo tempo, il secondo tempo abbiamo calato un po' l'attenzione e siamo stati puniti severamente. Sui quattro centrocampisti? No, Kolusevski ieri non si è allenato, ha avuto un problema con i denti, quindi non era in condizione di giocare all'inizio. Per quanto riguarda Paolo, aveva solo mezz'ora nelle gambe, quindi il problema non è che la partita di stasera, non è che abbiamo perso 4 a 0 perché giocavano 4 centrocampisti. Nel secondo tempo abbiamo avuto meno attenzione, nel primo tempo la scuola ha fatto secondo me un buon primo tempo. Grazie.